Tiberio e Caio Gracco, tribuni della plebe e riformatori rivoluzionari. Introduzione Nella Roma del II secolo anno corrente, due fratelli, Tiberio e Caio Gracco, si distinsero come figure politiche dirompenti e rivoluzionarie. Entrambi i tribuni della plebe tentarono di attuare riforme volte a riequilibrare i poteri e migliorare le condizioni dei cittadini più poveri. Le loro proposte, seppur innovative e progressiste, incontrarono l'opposizione dell'aristocrazia senatoria, sfociando in violenti scontri e tragiche conseguenze. Tiberio Sempronio Gracco 133 appunto ci eletto tribuno nel 133 anno corrente. Tiberio Gracco si propose di risolvere la questione dell'ager publicus, ossia le terre demaniali conquistate da Roma che erano state ingiustamente occupate dai patrizi. La sua legge agraria prevedeva la ridistribuzione di queste terre in piccoli lotti da assegnare ai cittadini più poveri. La proposta di Tiberio Gracco incontrò l'acceso sostegno del popolo, ma l'ostruzionismo del Senato e l'opposizione dei latifondisti degenerarono in tumulti. Tiberio Gracco e 300 suoi sostenitori furono uccisi in un violento scontro. Caio Sempronio Gracco 123 a 122 appunto ci dieci anni dopo la morte del fratello, Caio Gracco venne eletto tribuno della plebe. Le sue riforme riprendevano l'opera di Tiberio, ampliandola e radicalizzandola. Caio Gracco propose l'estensione della cittadinanza romana agli alleati italici, la riduzione del prezzo del grano per i cittadini poveri, l'istituzione di coloni e di cittadini romani in Italia e la riforma del sistema giudiziario. Le sue proposte, ancora più rivoluzionari e di quelle del fratello, alimentarono la tensione con l'aristocrazia senatoria. Scontri violenti tra opposte fazioni culminarono nella morte di Caio Gracco e di circa 3.000 suoi sostenitori. Eredità e conseguenze Le riforme dei fratelli Gracchi, seppur non completamente realizzate, ebbero un impatto significativo sulla società romana. Le loro proposte accrebbero la consapevolezza dei problemi sociali e politici dell'epoca, alimentarono la lotta tra le classi e contribuirono all'avvento del Principato. Le figure di Tiberio e Caio Gracco rimangono iconiche nella storia romana come esempi di politici coraggiosi che tentarono di cambiare la società a favore dei più deboli, sacrificando la propria vita per i loro ideali. Significato storico Le riforme dei Gracchi rappresentarono un momento di svolta nella storia della Repubblica Romana. Esse segnarono l'inizio di un periodo di turbolenze e conflitti sociali che avrebbero portato alla fine della Repubblica e all'avvento dell'Impero. Le loro proposte, pur se non completamente attuate, ebbero un impatto duraturo sulla società romana, aprendo la strada a future riforme e cambiamenti. Alcune riflessioni Le vicende di Tiberio e Caio Gracco offrono spunti di riflessione su diverse tematiche. La lotta per la giustizia sociale. Le loro riforme miravano a ridurre le disuguaglianze e migliorare le condizioni dei cittadini più poveri. Il conflitto tra le classi, le loro proposte alimentarono la tensione tra l'aristocrazia senatori e il popolo. Il ruolo del potere. Le loro morti tragiche evidenziano i pericoli derivanti dall'uso eccessivo della forza e della violenza. Il coraggio e l'idealismo. Le loro figure rimangono esempi di politici che hanno lottato per i loro ideali, sacrificando la propria vita per il bene comune. Conclusione Tiberio e Caio Gracchi furono figure di grande rilievo nella storia romana. Le loro riforme, seppur contrastate e incomplete, rappresentarono un tentativo coraggioso di cambiare la società e di dare voce ai più deboli. Le loro idee e il loro sacrificio hanno lasciato un segno indelebile nella storia e continuano ad ispirare le lotte per la giustizia sociale e l'uguaglianza. Grazie a tutti.